Il penne per riscattare il 3-0 di Sambuceto e cercare di uscire dalla zona calda della classifica. L'alba triatica per continuare la corsa verso le posizioni che contano dopo la vittoria al photo finish con il Montesilvano. Mr. Raielli recupera Cacciatore e Cellucci, ma deve rinunciare a Rossi per squalifica. Mr. De Amicis invece rispetto alla gara con il Montesilvano schierato Legoschi e Savo al posto di Giovannone e Giorgi. Il match parte forte con due occasioni da una parte e dall'altra nei primi due minuti. Igramella si ritrova solo davanti ad Egidio che però se la cava con i piedi. Subito dopo scambio Cutillice e Lucci, Barduanni è bravo a negare la gioia al numero 9. L'alba continua a provarci, al 23esimo crossa al centro ribattuto, da dietro arriva Censori che calcia alto. Alla mezz'ora Picone crossa, Savo sfiora di testa ma non inquadra la porta. Al 32esimo il penne si porta in vantaggio, Cacciatore sfrutta un traversone dalla destra e batte l'incolpevole Barduanni. Sul finire del primo tempo Ghiotto occasione per raddoppiare. Scambio Antonacci Cutilli per Cacciatore. Barduanni è miracoloso sul numero 10. Si va a riposo sull'1-0. Con le riprese di Maria Carannante andiamo al secondo tempo. Al settimo Igramella raccoglie un lancio dalle retrovie ma calcia male. Al sedicesimo traversone di grande, velo di Cacciatore, Cellucci calcia centrale e debole. Sull'altro versante stesso tentativo di Pincelli, il risultato non cambia. Al diciannovesimo arriva l'episodio che cambia la sfida. Il signor Loris Carlini di Lanciano ravvisa un fallo in aria su Igramella. Egidio intuisce ma il penalti di Igramella entra in rete. Passano due minuti e il numero 11 al Benze regala la vittoria ai suoi con un gol da vedere e rivedere. Al ventiquattresimo Pantoni conclude alto dalla distanza. Alla mezz'ora Cellucci si invola verso la porta ma Barduanni è miracoloso. L'estremo ospite si esalta anche nel finale sul tiro potente ravvicinato di Cacciatore. Sul corner successivo Cellucci in corna ma Barduanni blocca. Si chiudono così le speranze per il penne che si trova a dover leccarsi le ferite dopo una buona prestazione. Per l'alba invece tre punti d'oro che le permettono di arrivare con molta fiducia allo scontro con il cupello. Da segnalare ad inizio partita il minuto di raccoglimento per un lutto che ha colpito il preparatore dei porteri al Benze. Mister forse per quello che si è visto in campo il risultato non rispecchia quello che è accaduto. Purtroppo oggi ci penalizzano gli episodi abbiamo fatto troppi errori individuali è un peccato perché alla fine potevamo addirittura andare sul 2-0 e ci troviamo a parlare di una sconfitta. È un vero peccato perché alla fine non meritavamo assolutamente la sconfitta. Nel primo tempo siete ai partiti molto bassi. È stata una sua scelta questa? No, i ragazzi hanno rispettato il piano partita assolutamente. Sono stati bravi. È un peccato, ripeto, si poteva chiudere il primo tempo sul 2-0 e poi stavamo a parlare oggi di un'altra partita. Purtroppo poi gli episodi ti condannano. Io non voglio parlare di errori arbitrali ma anche oggi hanno un po' condizionato la gara. Nel primo tempo siamo stati noi a fare la partita e siamo stati puniti da un episodio che ultimamente ci capita spesso, che perdiamo l'uomo in area, però nonostante il gol subito eravamo noi che facevamo la partita. Poi nel secondo tempo abbiamo continuato a giocare come nel primo tempo e sono arrivati i due gol che secondo me è stato il premio per una grande prestazione da parte della squadra. Diciamo che dopo il 2-1 forse ci siamo abbassati un pochino con il baricentro e lì siamo stati bravi a soffrire da squadra. Io ci tenevo a dedicare la vittoria al nostro mister dei portieri Gianni Gastroni che ha subito un lutto poco prima della partita. Questa vittoria la dedichiamo a lui e gli mandiamo un forte abbraccio.